Ad occhio nudo vediamo solo una macchia scura, ma possiamo utilizzare due tipi di microscopio. Il microscopio ottico è stato il primo ad essere costruito. Volete sapere come funziona? Utilizza un sistema di lenti ed un fascio di luce visibile che ingrandiscono ed aumentano la risoluzione di circa mille volte in più rispetto al nostro occhio. Il potere di risoluzione è 0,2 micrometri.